Allora, dunque, noi abbiamo ricevuto alcune domande via email, tanto per cambiare, e poi alcune domande che ci sono state presentate stamattina e a cui risponderemo sicuramente nel corso di questo pomeriggio. Però, dato che siamo professori universitari, non possiamo lasciarvi con la lezione a metà. Abbiamo deciso di riprendere, anche perché alcuni temi sono venuti fuori, alcune considerazioni sono già state acquisite come scontate dal punto di vista dell'applicazione della normativa. Però, insomma, forse un quadro, su alcuni punti, soprattutto qualche approfondimento, alcuni punti specifici, viene fuori anche dalle domande che ci sono anche in precedenza presentate. Vorremmo farlo. Sulla parte di Interpares, io sono andata veloce, perché sono i concetti che sono di base della nostra normativa. Ho ripreso solo qui le ultime, tanto per dirvelo, c'è questo tema del link alle risorse esterne di cui abbiamo parlato in precedenza, le raccomandazioni di Interpares sono generiche, perché si parla di giurisdizioni diverse, però si dice che il link non può dato per acquisito, va descritto, va fatto addirittura una verifica, se non addirittura includere tutti i metadati relativi al link o addirittura scaricare molte amministrazioni, non solo italiane. Il link non si mantiene come tale, ma dà vita, la presenza di un link all'acquisizione del documento sul Comune di Firenze, sicuramente per ogni link interviene, acquisisce il documento, lo ingloba al proprio interno, lo protocolla, eccetera, eccetera. Quindi sui link ci sono poi alcune considerazioni di Interpares, sono gli ultimi slide della parte su Interpares che mi sembrava interessante considerare. Qualcuno ne ha parlato nei suoi interventi precedenti sul problema delle firme digitali, forse tu quando facevi il caso di un documento firmato digitalmente, che poi nel frattempo ha subito perché il link esterno, perché delle componenti sono modificate. Allora, sul problema della firma digitale, io credo, e sulla conservazione, io credo che si possa... E sul problema della conservazione sostitutiva, che alcune, anche situazioni di eccellenza, devono ancora affrontare, io permetto di richiamare la vostra attenzione, l'attenzione di tutti, sul fatto che la conservazione è inevitabilmente legata a una dimensione dinamica. E quindi è impensabile che noi possiamo ragionare in termini di conservazione concentrandoci sul bit stream che creiamo qui e ora. Ovviamente, è anche una delle domande, se io ricevo un'email di un certo tipo, organizzata in un certo modo, con dei formati in un certo modo, posso modificarla e gestirla in modo diverso? Allora, lì le strade e le strategie sono diverse, a seconda dei tipi di documenti che sto trattando. È chiaro che se io ricevo un documento, ed è un po' anche la riflessione che fa Inter fare, e su questo punto il team internazionale ha discusso animatamente, perché il gruppo italiano diceva «Signori miei, noi abbiamo una norma sulla firma digitale, per cui dobbiamo trattare e conservare documenti firmati digitalmente, che hanno quel bit stream e quella firma digitale, quel meccanismo di definizione dell'identità, che è anche controllo dell'integrità, che è basato su quelle procedure. E dobbiamo conservare in modo sostitutivo, come si dice, sostitutivo di che, non si sa, ma insomma sostitutivo, quel tipo di flusso e di gestione. Il mondo, tutto il resto del mondo, non ci pensa proprio a poter conservare il flusso di bit originario e la firma digitale. Come dico sempre, la regola del mondo anglosassone è che le firme digitali originarie non entrano in archivio di conservazione mai. Si attesta che c'erano, si attesta il più possibile, come fanno alcuni comuni, il comune di Torino, tanto per non fare un nome, ma il comune di Firenze fa la stessa cosa. I comuni di Firenze, come il comune di Torino, definiscono, gestiscono, verificano tutti i documenti firmati digitalmente e annotano sul protocollo, cioè sul sistema di gestione documentale, la presenza della firma e la verifica che la firma è stata fatta e la verifica della marca temporale. Quindi, cos'è che dobbiamo conservare? Non la firma e la marca, che potremo conservare per un arco temporale limitato, potremo fare delle verifiche limitate, e se vogliamo prolungare, arriveremo a dei costi esorbitanti da pezzi di finanziari, insomma, solo per conservare cose che non meritano di essere conservate e meccanismi che non meritano di essere salvaguardati nel lungo periodo, ma dobbiamo concentrarci sulla conservazione della documentazione di attestazione, che quel documento era correttamente formato, che erano stati fatti dal protocollista, dal responsabile del protocollo, che non a caso, sia nelle regole tecniche nuove, che speriamo vengano approvate prima o poi, e che nel codice vengono di fatto mantenute, anzi, a cui si affida una figura, si riconosce una funzione di attestazione di pubblico ufficiale e così via. Quindi è l'attestazione che tutto è andato a buon fine, che la verifica è stata fatta, che il documento aveva una data opponibile a terzi, che magari viene da una protocollazione, da dati di protocollazione, dalla segnatura di protocollo, e garantita dal fatto che il documento viene protocollato. Quindi, per esempio, cos'è che dice Interpares alla fine? Dice che il sistema di record keeping, cioè il sistema di gestione tenuta dei documenti, deve assicurare la validità di ogni firma digitale. Tenuta vuol dire i documenti che mi servono qui e ora. Per ogni componente digitale, quindi se io ho una firma digitale sull'allegato e una firma digitale, devo gestire le diverse. Poi, mediante la conservazione del flusso di bit originario e tutte le azioni necessarie a sostenere la catena di validazione della firma, punto, no, punto, virgola, fino a quando tale firma debba essere mantenuta in ragione di obblighi legali e amministrativi specifici. Se, fino a quando io ho bisogno di... se noi andiamo a vedere le firme autografe, ma quando noi avevamo le firme autografe, nell'archivio storico ci manteniamo tutto, un apparato di verifica della firma autografe? No, ci manteniamo il documento con la sua firma verificabile perché è una firma che ha una sua dimensione statica e tridimensionale e così via. Allora, dobbiamo ragionare su questo. Il che vuol dire che noi dobbiamo ragionare su quali sono i documenti, la documentazione, i metadati, le modalità per gestire nel tempo quello che gli inglesi chiamano l'authenticity evidence, la prova che quell'oggetto era e continua ad essere presumibilmente autentico. Quindi noi abbiamo degli strumenti, soprattutto la pubblica amministrazione. Il privato è più in difficoltà. Il privato probabilmente in questa fase ha poche alternative ad affidare a qualcun altro la conservazione di documenti digitali firmati. Non so se tu su questo vuoi dire qualcosa di più. Non c'è dubbio che c'è come base il problema della conservazione della firma digitale come oggetto che di per sé rappresenta forse l'elemento di maggiore complessità. Vi ricordo che la firma digitale è un risultato di una formula matematica che si applica all'insieme dei bit che compongono il file, il documento, quindi il testo. Ora, se un solo bit non viene letto dal sistema di storage con la dovuta precisione, quindi se un bit con tutti i sistemi di controllo e correzione degli errori. Ma sapete quando i supporti tendono a deteriorarsi? Mi sembra che proprio qualche giorno fa si parlava con un'amministrazione e io dicevo guardate un disco magnetico ha un tempo di vita che non dovrebbe superare i cinque anni. Allora questi mi hanno detto vabbè ma noi abbiamo computer e pc che utilizziamo a dieci anni e non ci dicono quando li cambieremo. quindi è probabile che la memoria su cui noi, il supporto su cui andiamo a memorizzare questo documento, questo file, possa deteriorarsi nel tempo e quindi quando lo vado poi a ricostruire attraverso il sistema di lettura può capitare nonostante tutti i sistemi di controllo degli errori che un bit non si forma in maniera corretta. Se un bit non si forma in maniera corretta e ho un testo esclusivamente in un formato tipo ASCII, Unicode, vabbè vorrà dire che io il testo lo leggo magari lì invece di leggere la lettera A mi può comparire una E. Ma se c'è una firma digitale, il documento mi dice la firma digitale non è più valida. Il documento lo abbiamo perso. Era valida, attenzione, mi dice che non è più valida appunto. Non è più valida perché facendo i calcoli non la matematica oggettivamente è un calcolo preciso quindi oggetti come la firma digitale, come la marca temporale, come tutto quello che è una sequenza binaria prodotto da una formula matematica complica il processo di conservazione e quindi la tendenza ovviamente a livello internazionale è quella di sostituire alla conservazione di un oggetto digitale che è difficile da conservare, si sostituisce la costituzione di strutture con delle responsabilità tali da poter attestare anche in sede giuridica lo stato del documento al momento in cui uno prende in carico. Ma naturalmente qui abbiamo bisogno di strutture qualificate con responsabilità ben dichiarate ma anche strutture che poi esercitano la funzione della vigilanza. Cioè qualcuno dovrà, non può essere che questo meccanismo sia totalmente autoreferenziale e quindi dobbiamo mettere in campo un meccanismo che permette di accertare esattamente che i processi sono eseguiti in maniera corretta. Aggiungo anche, visto che qui si parla di convertire entrambi i formati dei componenti e del testo e così via in formati coerenti da conservare insieme al bitstream originario e va bene, nel momento stesso della cattura nel sistema e registrare nel profilo del documento. Quindi documentare per noi qual è il profilo del documento? Sono i dati, se siamo una pubblica amministrazione, i metadati che gestiamo nel protocollo. Quindi dobbiamo avere bisogno di un sistema di gestione documentale ricco, capace di catturare tutte le informazioni e le eventuali annotazioni che faremo man mano. Necessario a descrivere la presenza della firma, non necessariamente a mantenere tutti i dati della firma. Quando parliamo quindi di formati, qualcuno ha detto, no? Colleghi, tutti anti dicono, nelle testimonianze precedenti, definiamo i formati. E giustamente anche Ilaria dice, attenzione, però quando noi definiamo una lista di sei formati, che quelli sono, e io invece nel mio archivista... Perché noi quando parliamo di gestione documentale dobbiamo metterci in testa che o noi creiamo un sistema di gestione documentale che serve a chi lavora e non agli archivisti, perché se serve agli archivisti, scordiamoci che qualcuno lo prenda sul serio, in un paese come il nostro poi figuriamoci, no? Ma in ogni caso, in nessun paese, deve essere un sistema che serve a tutti noi quando lavoriamo. Quindi se io ho bisogno di ricevere da un collega un documento con un formato Excel, tutto meno che conservabile nella sua dinamicità, perché io ci ho messo tre ore o tre giorni a costruire il mio formato Excel, il mio foglio Excel per lavorare, produrre... Allora, dato che io so che se lo manda il protocollo, quel formato Excel viene trasformato in un PDFA ben conservabile, ma di cui oggi non so che farmene, io glielo manderò per posta elettronica. E dato che mi devo assicurare solo che lo riceve e ci lavori, non userò mai più il sistema di gestione documentale per mandargli quel file, no? Perché mai dovrei. Io ho pochissimo tempo, già non ce la faccio più, quindi gli mando per posta elettronica il bel formato Excel. E il bel formato Excel perfetto non viene conservato né come formato Excel né come PDF, perché non arriva neanche il protocollo. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo puntare, costruire, lavorare su nuovi modelli e software di gestione documentale, che siano, come qualcuno, i colleghi che lavorano, la software house che lavora a Trento, che si è inventata, questa forma, non so se a voi ve l'hanno già venduta, forse no, perché non ci avete più soldi, ma è un sistema molto interessante, l'hanno chiamato SMART, un sistema di gestione documentale SMART, furbo, capace di gestire con canali facili documenti, documenti, gli inglesi hanno due termini, document e record. Il document è il documento che mi serve, che è un documento per me, che è un record per me, ma non necessariamente ufficiale per l'amministrazione, non necessariamente passa a protocollo, è nel sistema di trattamento, è nella mia memoria, diciamo, di lavoro, non personale, ma di lavoro in quanto dipendente. E poi io ho il record, che è il documento ufficiale dell'amministrazione, che è quello che passa ai confini dell'ente e arriva attraverso il protocollo nell'archivio. Allora, noi dobbiamo pensare, e in questo senso bisogna ancora lavorarci veramente, lavorare su sistemi SMART, che sono in grado di gestire, qualcuno l'ha detto, versioni diverse dello stesso documento, gestire ufficialmente, in modo semplice e trasparente, la forma ufficiale del documento, che va nell'archivio di conservazione, ma contemporaneamente essere in grado di gestire nella piattaforma documentale, che deve essere la piattaforma di lavoro, il documento nel formato che abbiamo bisogno di usare, qui e ora, senza dover domani di nuovo ricominciare da capo a progettare il nostro formato. Quindi questa è una sfida che noi abbiamo, ed è una sfida condivisa, o la gestiamo insieme agli informatici, o non la gestiamo in alcun modo, cioè o la perdiamo, e la perdiamo tutti sostanzialmente, perché poi, quindi questa è una, è un confine a cui forse, che è una nuova, una nuova, diciamo, un nuovo punto di arrivo, a cui dobbiamo immaginare ancora di costruire i nostri, e vabbè. E quindi questo è, insomma. Allora, la seconda parte, che molti di voi già conoscete, quindi ci passeremo rapidamente sopra, nel senso che cercheremo un po' di puntualizzare alcune questioni, che però poi, dalle domande che abbiamo ricevuto, appare chiaro che alcune di queste questioni non sono ancora chiare abbastanza, cerchiamo un po' di fare il punto di qual è lo stato della normativa. Sì, allora, io non sono neanche tutte, se posso dire, anzi, essendo io un inguaribile ottimista, non ho messo le norme che dovrebbero già essere state assorbite dalle nuove regole tecniche. Quindi ho inserito, poi vedrete, alcune indicazioni sull'email interessanti, semplificate rispetto alle vecchie regole tecniche, che sono solo presenti nelle bozze. Nelle bozze ci sono due o tre punti chiave interessanti sull'uso della posta elettronica, che meritano di essere considerate. Regole, disposizioni, che sono state riprese da che cosa? Dal DPCM, che qui non c'è, dal DPCM del 2000, che dettava regole tecniche su protocollo informatico. in quel DPCM che costoda alcuni di noi lacrime e sangue, e tra l'altro recentemente, non lo dovrei dire, ma lo dico, non lo dico, no, no, questo non lo dico, lo dico dopo. Allora, alcune regole tecniche... Pengo il microfono? Lo dico. Allora, alcune regole tecniche... inolite... Inolite... L'inolite... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.